I cacciatori del tesoro migliori di Fortnite sono già di nuovo tornati Questa volta dobbiamo seguire la mappa del tesoro trovata nelle spiagge snob Sei pronta a fare? Prontissima, andiamo! Non sarà semplice, lo sai benissimo No, lo so, sono sempre complicati Ma i cacciatori del tesoro non hanno nessun problema Le trovano proprio, schiochi le dita, trovi il tesoro Schioffi le dita, batti le mani, tutto male, l'altro dai L'hai cantata male, perché devi rovinare tutto? Eh perché... Ma vuole essere simpatico e non ci riesci Dai su, andiamo, andiamo E quanta gente andrà a spiagge snob? Tantissima Tantissima, secondo me tantissima Allora, dobbiamo andare nella seconda casa Ok Quella, quindi a fianco a quella dove c'è il passaggio segreto con tantissime ceste Lì, nella zona della piscina c'è un chioschetto con la mappa del tesoro Ah, ce l'ho anche presente Che ci farà capire dove dobbiamo andare Sarà difficile a fare Come sempre, funziona sempre al stesso modo Kamikaze, pensiamo a trovare la mappa Capire un attimino dove dobbiamo andare Ovviamente, ovviamente È male che vada e andiamo nel game successivo se c'è troppa gente, non ci interessa No, e ci sarà troppa gente, Steph Perché ovviamente adesso appena mettono le sfide le vogliono tutti fare Ovviamente la territoria deve passarci proprio sopra Perché fortuna vuole Io inizio a buttarmi Che io Che poi visto ci sono ancora quei simboli per la missione Mi devo ricordare di farla, quella del pass battaglia, di scendere lì È carina comunque anche questa È carina Hanno fatto una buona idea, mi è piaciuto un sacco No, mi piace che ogni settimana comunque aggiungano qualcosa di molto particolare Molto divertente È diverso che non ti aspetti Non è che risfruttano le stesse cose Esatto Lo rifanno le vinte Esatto Questa cosa mi piace tanto E poi ci danno la possibilità di essere cacciatori al tesoro Quindi, Steph, seconda casa questa qui? Esatto, sì Ok, vado Sì, però nella parte di dietro Sì, quindi cerco di andarci Allora dovrei scendere prima degli altri Quindi male che vada riesco a vedere Poi muoio e ciao e addio Se riesce a prendere anche un fucile a sterminarli Vediamo se trovo qualcosa nella piscina, no? Non farebbe schifo Può esserci Io non vorrei dire, ma non ho visto gente Oh, neanch'io, però per sicurezza Allora qua Eccola, Steph, l'ho trovata Lo so, brava, ma sto cercando un'arma Sai, se riusciamo anche a non morire Mi sta rovinando il momento, Steph Mi rovina sempre i momenti delle cose È perduta una porta? Sì, hai trovato un'arma? No, ho messo una trappola Ok, perfetto Ho una pistola adesso, Ferre Wow Di quelle bianche brutte Vediamo qua Adesso un revolver, Ferre Ma vabbè, solo trappole si trovano in questa casa Un'arma? Ok, ho il pompa Easy peasy E allora mi difendi tu, Steph Prendo un po' di legna Così nel caso mi costruisco dei muri E mi butto qui fuori Andiamo a vedere Andiamo a vedere sta mappa Dov'è? Ah, io l'ho vista Dov'è? Dentro il chiosco Vai dentro, la trovi Ah, eccola, eccola, eccola Questa qui Perfetto Ok Eh, ora sì che si capisce Allora Allora, sembra che indichi il nord, giusto? Il? Nord, vedi che è rosso qui No, no Non è il nord Non è il nord, Steph Aspetta, forse ci c'è di andare verso No, 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 no Andremo verso la spiaggia Non è il nord Il discorso è che La montagna di destra È abbastanza famosa E ce l'ho abbastanza presente Ah, ma ho capito Sì, anche io Però non mi ricordo minimamente dov'è Ma quanto mai Ma quando è È tipo una tra queste due Ma cosa ha capito? Non è qua, Steph Non ha capito nulla L'ho trovato, è qua Sì Davvero? Sì E allora perché mi dici che non capisco nulla? Eh, perché ti volevo pensare Perché la conosco con la montagna, con gli alberoni Ce l'ho presente Eh, lo so Al punto preciso Mica me lo ricordo Avendo vista la mappa cinque minuti fa Era totalmente al centro, scusami, eh Corro al dritto Io sto al centro tra le due montagne Vediamo Beh, ci sarà qualcosa Anche perché Allora, c'erano disegnati Io me la ricordo Aspetta però perché Due montagne Nella minimappa Segna queste rocce Potrebbe essere il punto in cui ho deciso di metterlo Può essere Spacca? No, non mi sembra Io continuo a correre Tu magari spacca lì Vedi sei lì Secondo me è lì Tra quei due alberi Esatto, quello che ho pensato anche io Anche secondo me è lì Vediamo Sì Tra i due alberi Lo sapevo Se l'abbiamo fatta Perché sono segnati Nella minimappa molto visibili Quindi si capiva Raccogli Oh yes E anche questa settimana Fatto È bello che è andato Un game rilassante Tranquillo Voi sono state iniziando a vedere adesso Però C'è guerra C'è guerra ovunque Quante kill hai tu? Tre Tre anch'io Wow Hanno fatto cadere cura Ah tu hai detto Dammi il medikit Dammi il medikit Ok Hai colpito l'M16? Sì 240 Tu? Ok 50 Grazie Stef Tieni Sei molto gentile Sei proprio una bella persona Grazie Sì 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 Grazie Facciamo così Ho anche l'M16 blu adesso 22 vivi Game delirio Ci stanno tutto il tempo assaltando Cioè pensate appunto Siamo già 6 kill E non siamo minimamente partiti Da una zona di quelle brutte Quindi È proprio Eh sì 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 Gente che ci aggredisce In tutti i modi possibili Scillini Li prendiamo volentieri Col pompa blu No ci sta capitando più che altro Che se andiamo a fightare un team Ce ne troviamo sempre un altro alle spalle Esatto È di quei giorni È di quei giorni lì un po' migliacchi Sì E di quei giorni un po' migliacchi Ok Sai che forse queste bende ce le portiamo a casa Tanto il scillino era solo uno Oh sì dai dai Allora io lo prendo Ho lo spazio per gli scillini Ok Perfetto Quindi me lo sono presa Ne ho tre Ok non è malissimo Però ci sta Ok Hanno sparato alla nostra sinistra Ok A livello di rumore Non vedo player Sembravano abbastanza distanti Quanti mazzo Non ho sufficienza da sprecare per salire da qui Ok Allora facciamo tutto il giro Rischiamo Mamma mia Non vedo nulla con quel tramonto Mamma mia Che fastidio Che fastidio Vabbè dai che lo superiamo ora Vai 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 Che fastidio Fastidio Sopra sopra Ho visto 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 Dov'è? Qui alla destra Stef a 30 gradi Ho visto uno che saltava Ma proprio molto vicino Lo vedi? Lo vedi? Sì 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 È molto vicino? Forse sono due È ovvio Probabilmente sono due Rompe quest'albero di fronte a noi Ok A terra Quindi c'è il secondo Che probabilmente era in quella zona che ho visto io poco fa Eccolo Di fronte a noi Ok Perché mi si costruiscono sempre le scale storte? Ok Sto ricaricando eh Quindi occhio Ok Uccisa Bravo Vediamo se questo di qua aveva qualcosa di buono Colpi 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 Ma niente arma degna di nota Perché ogni volta riperdo tutto l'uscilio e tutta la vita? Non avevo nulla? No no Solo colpi Ma allora giocherò con 75 E lì c'è un pompa viola invece da prendere Da quel tipo Ok E mo però come faccio? E mo come faccio? Eh non so Porca miseria Perché mi ha sparato Non me lo aspettavo proprio in quel punto lui eh Dov'era? No io sinceramente me lo aspettavo più sulla sinistra Perché ne avevo visto uno saltellare Questo mi sembrava già troppo avanti Quindi ho detto magari il compagno è rimasto indietro Quindi non me lo aspettavo Sciullini Sciullini Io ne ho uno Sciullini C'è pure una cesta Che non me l'hai chiesta? Ah Ah Meno male Ah lì ci sono Questi colpi me li prendo però Delle m6 Prendi il sciullino che ho buttato Ok Dov'era? Ma qui dietro dai Ho fatto il giro per nulla Pensavo sia da questa parte Vabbè ok Eh ne ho di nuovo due se poi ti servono eh No vabbè mi sono tirati Spero che non mi servono No di cose se poi ti servono Mi stai portando sfiga? Sì Ok Perché oggi è la giornata della sfortuna Steph Sai quando ci si sveglia sfortunati Secondo me si rimane sfortunati Per tutta la giornata Beh sì Quello lo penso anche io fare 14 vivi Ok Buono buono Ok sì quello è buono Aia aia Steph Mi hanno colpito Da dove? Non me ne sono neanche accorta Stavo guardando la mappa E non me ne sono accorta di questo qua Ok Eh grazie Steph Questo vizio Poi che hanno sempre di final killarti Al Al millesimo di seconda Posso sapere da dove arrivano i missili? No da lì sopra Ma te l'ho detto Vedi è il giorno in cui combatti un team Ne ha un altro a fianco In questo caso anche di fronte A destra e a sinistra Però sì Che cavolo Dov'è l'amico di questo? Mi piace essere morta così Avevo comunque 4 kill Non stavo andando male Sono triste Eh direi Anche io Eh mi sono Cioè stavo guardando un attimino la mappa E non me ne sono accorta Cioè che ero proprio No vabbè Eh non me l'aspettavo lì dietro Capisci Avevamo appena ucciso due Non me l'aspettavo Io questo me lo tiro Quindi comunque guardavo la mappa Però ero sempre a guardare di fronte a noi Non lì Vabbè Pazienza Potete Finire i missili Metterla di Esatto Di lanciare i missili Grazie eh No giusto perché Non mi piace gli infarti Non sono un fan A me l'hanno fatto prendere Mi hanno fatto proprio panicare Sai che non ti spaventi Perché non ti aspetti di essere Sparato e quindi paniche Ecco questo è quello che mi è successo Uh questa mi piace però Ok Oh un trampolino No manco per sbaglio Ok Eh Eh È tosta Lo so Sperando che non mi vedano Mi avranno visto vero Grazie Sì Vi amo Sì Ma tecnicamente tu dovresti essere È per me Nascosto nell'erba Visto che sei verde Invece tu si vede sempre Grazie anche per quello Grazie per il missile Sempre gentili Non avevo chiesto Ok All'air drop Quanto li va a riammazzare Eh ma non Non penso che tu ci possa andare Stef Cioè ti tirano un missile in faccia E non ha senso Nenche andare lì addosso Poi comunque stanno Continuando a sparare Qualcun altro Eh magari qualcuno li uccide Vedi là così E non avrai più questo problema Di averceli attaccati Occhio eh Tranquilla Sento finché sento che sparano So di non dover buldare dietro di me Quei due airdrop Non c'è bisogno di dirti Che mi ispirano un sacco Eh lo so Quando sono da solo Voglio sempre un lanciarazzi Perché mi dà La possibilità di andare in vantaggio Nel fight istantaneamente Assolutamente sì Controlliamo che non ci sia Gente nascosta da queste parti No sembra tutto ok Il barbecue mi sembrava una persona A prima vista Sì Eh sei com'è Wow Te l'ho detto No Siamo tornati al tramonto fastidioso Ma che è Da una parte all'altra Non ci si aspetta mai Ma hanno messo che la giornata Rimane ferma Non credo Eh penso di sì Era tramonto prima E tramonto adesso Ho fatto da tramonto ad alba Mentre io facevo i fiumi Non lo so Sicuramente non ci ho fatto caso Stefano voglio pensare a questa cosa Voglio stare attenta al game Non lo so Poi leggeremo Se magari hanno messo la giornata fissa Quello sì Vedremo Ricordati di controllarlo Sono curioso Sì sì ovvio È perché è interessante Non è così banale Anche se a me piace Che passi la giornata Anche a me non dispiace Vabbè Cioè Non lo butto Chiariamoci È mai che critico Una roba del genere Però Però Un RPG Che poi ce l'avevi già Eh non ce l'avevo a leggendario Era epico Eh vabbè Però se poi ce l'avevi già Eh gn 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 Io avevo un'arma bruttissima Gn 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 Allora Che poi ne siamo partiti da qua Vero? Queste sono cose nostre Questo è come fatto da me Questo ponte è mio Sì 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 Infatti guarda Lo posso modificare Ah sì è vero Occhio Ok Mi posso rilassare Un secondo No no In questo game Non ci si può rilassare Occhio eh Sarà il secondo Dov'è? Steph Fai qualcosa Grazie a Dio Sta arrivando uno Ti sta arrivando uno Col deltaplano L'ho visto oltre questi alberi Quindi non so se anche questo È arrivato magari con un launch pad Fare Ci sono passi Non muore? Immortale Ok Occhio Steph Fai lo so L'ho capito quello che mi hai detto Però Che devo fa? Eh ma ti sta arrivando qualcosa Ma che devo fa? Cioè li ho visti Per lo meno svolazzare Dietro questi alberi Che devo fa? No non dico che devi far Ma qualcosa Però per avvertirti Certo Sto in Eccolo Ok Ancora uno Ancora uno Ma davvero? Davvero Scherziamo? Devo Devo anche ammazzare Non lo so Il re Eh vabbè Oggi va così Che ansia che mi sta a mettere Ok Ho sentito da Da quella parte Lui è qui Che ci fa lì sopra Lì sotto Sa dove sei Bravo Bravo Ah no qualcosa Medikit Vai 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 Ottimo Copriti e tiratelo Ansia vero? No Ecco qua No No Perché Fatemi esplodere A sto punto Ve lo giuro Preferisco No no Non puoi Chissà se quello di sopra C'è qualcosa Ma poi che visione hanno Per averti visto lì sotto Ma dimmi te Prendete anche l'altro Medikit Eh vabbè Quando siete arrivati Posso sapere Questo era il tizio Che stava da solo Contro due tizi Che stavano lì sopra Che mi tiravano l'RPG Tutto il game Era su di noi Tu quante kill avevi? Quattro Io nove Tredici kill Vabbè Vabbè Neanche così